Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le preferisco sempre prendere un po' larghe alla fine dei conti perché... ...delle mani? Sì. Ma... Non c'ho mai voglia. A me si spezzano in superiore. A me spezzassi no, però... Io guarda anche lo smalto ce l'ho ridotto veramente. L'ho perso! L'ho perso! Aspetta! Aspetta che l'ho perso! Aspetta! Aspetta che ti ha perso! Ti vedo più! Aspetta! Ok, lo vedi? Sì! Sì! Tranquilla! Neanche Chiara c'è ancora rifiuta per lui! Prova rifarli! Ok! Tu riprova! Se lo fai troppo lontano non vedi cosa sta facendo lui! Se stai troppo vicino lo perdi! Che sborone! Ah! Tu ti avessi l'acqua aperta! Ci riuscire a fare qui! Il fosso Luca! Ah! E' andato andato! E' andato! Ah! 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 Questa è la Kate?